C'è una cosa nel libro di Bocchino perché l'Italia di destra che mi ha colpito, voglio vedere il titolo, è su Travaglio, vediamo il titolo di quel passaggio, il leader del Movimento 5 Stelle è Marco Travaglio, che ha promosso il leader del Movimento 5 Stelle. Allora abbiamo 30 secondi, perché ha scritto così? Perché c'è una crisi della sinistra politica e anche dei 5 Stelle politicamente e quando ci sono dei vuoti vengono riempiti, in alcune fasi sono stati riempiti dalla sinistra giudiziaria e adesso dalla sinistra giornalistica. Per me Travaglio è il leader dei 5 Stelle, l'ideologo, quello che dà la linea. Giannini è il frontman del Partito Democratico e poi dopo ci sono tutti i conduttori di televisione, centravanti di sfondamento e formigli, c'è tutta una squadra che sostituisce i leader politici dell'opposizione e che Poeretti sono un po' scarti, tranne Fratoiani, che essendo il più distante da me, ma il più vicino a me rispetto alle esperienze di vita, perché è uno che ha fatto sempre politica con coerenza, sin da quando era ragazzino. Travaglio si difenda. Sinistra giornalistica glielo dici a tua sorella, perché io non sono notoriamente di sinistra. Confermo giornalistica, perché quello è il mio mestiere. Per te era 5 Stelle giornalistico, populismo giornalistico. Se io fossi il leader dei 5 Stelle, i 5 Stelle non avrebbero salvato Salvini sul processo 18, non sarebbero entrati nel governo Draghi e probabilmente non avremmo il governo Meloni. Hai un dissenso elevato all'interno del Partito. Quando hanno votato la prima volta per le armi all'Ucraina e lui ha votato contro fin dalla prima volta, io ho elogiato lui, Michele 5 Stelle, perché a me non me ne frega niente di nessuno. Io se la Meloni facesse tutte le cose che auspico... Tranne che di Conte, lo ami molto. Perché ha fatto delle cose che condividevo. Quando ha fatto delle cose che non condividevo, l'ho attaccato. La stessa cosa vale per lui, la stessa cosa vale per la Meloni. Io non ho problemi. Io sono maoista nel senso che se il gatto prende i topi, a me mi piace il gatto. Non mi interessa se il gatto è rosso, nero, verde, quello che ha fatto 30 anni fa, chi era suo padre, chi era suo nonno. Tutte le polemiche che si stanno facendo in questo periodo, a me non mi interessano. A me interessa che un governo faccia delle cose che piacciono a me. Se fa delle cose che piacciono a me, applaudo. Se fa delle cose che non mi piacciono, fischio. Se poi quel governo è 5 stelle, frato i anni, Meloni, non me ne frega niente. Io non sono pagato a seconda di chi vince e di chi perde le elezioni. Io prendo uno stipendio da direttore del mio giornale che ho contribuito a fondare e che va avanti indipendentemente da chi c'è al governo. Semplicemente abbiamo una linea che precede i governi. E chiunque faccia delle cose lo sa benissimo se avrà il mio applauso o i miei fischi. Perché? Perché tutto si può dire di me, tranne che io non abbia delle idee piuttosto esplicite e piuttosto chiare. Io non parlo come il Giulie o come la Schlein. Io quando parlo si capisce.